Buonasera, inauguriamo questa sera una nuova rubrica, Luoghi Comuni. Ma cos'è Luoghi Comuni? È uno spazio aperto a tutti coloro i quali vogliono sfatare appunto dei luoghi comuni, delle leggende metropolitane delle quali ritengono di essere vittime. Buonasera, lo inauguriamo questa sera con l'ospite che sto per presentarvi. Buonasera, ebbene sì, lo ammetto io, sono di Orte, vengo da Orte, ma cosa c'è di male? Io vado in giro, tutti mi guardano, mi additano e dicono quello è un figlio d'Orte, ha l'autostrada spianata, lui, gli etruschi, poi sta proprio in un punto vicino alla capitale, le tradizioni, una lunga storia alle spalle, ma credete che sia facile? Avere un'eredità di questo tipo, essere figli d'Orte, non significa avere delle facilitazioni, anzi è una forte responsabilità che noi abbiamo. Quindi basta con queste chiacchiere, con questi luoghi comuni. Io rivendico il fatto di essere un figlio d'Orte e di aver dovuto lavorare, come tutti, per affermarmi. che sia chiaro questo. Bene? Era così, no? Buonasera, figli d'Orte.